Si chiama Rosa, non è una signora, è un robot, è il primo intervento di protesi di ginocchio fatto al centro chirurgico toscano qui di Arezzo con il robot Rosa, non è il primo intervento nel mondo, per carità, è la modernità, è il nuovo che avanza. Le nostre telecamere oggi nella sala operatoria del centro chirurgico toscano per raccontare la prima operazione di protesi al ginocchio realizzata con un nuovo strumento robotico diventato l'alleato dell'equipe di ortopedia. L'ortopedico che lo volesse utilizzare deve necessariamente fare un corso dedicato all'utilizzo di questo robot, cioè non è che la mattina uno si sveglia, anche ortopedico esperto e decide che quella mattina opera col robot. Lo può fare, ma solo dopo che ha avuto un'adeguata preparazione, come oramai è logico che si debba fare in tutti i campi del sapere, in tutti i campi del lavoro. Definito ormai robot in camice bianco, questa tecnologia che affianca il chirurgo consente di migliorare la pianificazione dell'operazione chirurgica e quindi l'intervento stesso, con importanti benefici, soprattutto post-operatori, per i pazienti. Di protesi di ginocchio noi ne facciamo circa 600, forse 700 l'anno. Con l'ortopedico il paziente e i ferri chirurgici. Il robot aggiunge un altro protagonista che rende l'intervento più preciso, direi anche più semplice, leggermente più lungo come i tempi di esecuzione, tutto non si può avere, però è indiscutibilmente il futuro della chirurgia del ginocchio, ma più o meno di tutta la chirurgia. Questo è lo stesso robot, però con software diversi che è ancora la ditta che lo produce, che è la Zimmer. Penso sia la più grande, anzi senza altro, la più grande azienda mondiale di protesi ortopediche, dicevo quando la Zimmer ha in preparazione, penso che lo avremo nei prossimi mesi, software per operare con lo stesso robot, anche le protesi di Anca e quelle di spalla. Nel caso delle protesi di spalla credo proprio che saremo i primi in Italia.